Se vi chiedo di immaginare la vostra vacanza ideale, pensate anche voi a trascorrere del tempo solo con le cose che vi piacciono veramente e vi fanno stare bene? Lontani da stress e fatica in un contesto accogliente e rilassante? Bene, allora siamo in sintonia. Sono Simona Vignali, naturopata, e ho organizzato per voi una vacanza di benessere totale con il mio staff Serena Babbo, vegan chef e arcangelo di Salvatore, insegnante di yoga e ayurveda. Per favorire il vostro relax e arricchirvi di benessere abbiamo scelto una location speciale per una vacanza senza pensieri. Venite a vedere! Grazie a tutti! Cosa c'è di meglio per staccare la mente e riposarsi di una vacanza in un country hotel circondato dalle colline, immerso nel verde, pieno di angolini tranquilli, con una fresca piscina a due passi dalle terme più prestigiose d'Europa? È bello pensare a se stessi e avere tanto benessere a disposizione, vero? Amate lo yoga? Arcangelo è disponibile al mattino con le sue lezioni, non troppo presto. Andate pazzi per i massaggi coccolosi? Ne riceverete ben quattro e potrete anche voi imparare a fare il massaggio e l'automassaggio. A pranzo Serena offrirà ogni giorno una selezione dei suoi migliori piatti vegetariani o vegani, senza glutine e anche crudisti, facendoci vedere come prepara le sue ricette. Le gusteremo freschissime e poi potremo rifarle a casa. Nel pomeriggio, dopo un po' di relax, io sarò disponibile a condividere i segreti di oltre 25 anni di esperienza per conquistare e mantenere una salute invidiabile, sorseggiando bibite fresche e tisane profumate. È come ciliegina sulla torta Serena, che è anche una spa manager di grande esperienza, mi accompagnerà alle storiche terme perzieri di Salso Maggiore, per farvi sperimentare lo stesso benessere di cui godevano i re, le regine, i principi e i nobili di tutta Europa, che tra l'800 e il 900 consideravano queste acque termali le migliori in assoluto. E se volete venire con la famiglia o i vostri amati animali, siete tutti benvenuti. Sono proprio felice di proporre questa vacanza rigenerante che si svolgerà dal 13 al 18 agosto. Scegli anche tu la vacanza che rigenera e i tuoi giorni di benessere dureranno tutto l'anno. Scopri di più sul viaggio cliccando sul link qui sotto o scrivimi subito. E ci vediamo ad agosto, naturalmente!